Non ci sta all'accusa di aver fatto una passerella politica come gli hanno contestato a Musoduro prima i sindaci della provincia di Salerno e poi il vicepresidente della Campania, Fulvio Bonavitacola. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha ribadito che sul fronte del dissesto le competenze sono della regione. A margine dell'incontro istituzionale a Padula, l'inquilino del di Castero ha ribadito che il governo ha fatto la sua parte nel finanziare tutti i progetti arrivati a Roma. Evidentemente, la stoccata di Costa, qualcuno non ha presentato i progetti. Il ministro ha poi rivendicato l'ingente disponibilità di risorse finanziarie a disposizione dei comuni e dei parchi sul fronte ambientale e, rivolgendosi proprio ai sindaci salernitani, ha chiesto di andare oltre i colori di appartenenza per costruire insieme il futuro di questi territori. È uno sviluppo che deve avere un senso green. Su questo noi ci siamo lanciati pienamente. Siamo il primo paese in Europa, nell'Unione Europea, che ha affrontato questo tema, abbiamo fatto la legge, abbiamo messo le risorse, i nostri player, i nostri attori principali sono i presidenti dei parchi e i sindaci. Ma poi con una concentrazione di risorse su centri, tutto sommato piccolini, quando parliamo che ci sono, già l'anno scorso ci ho messo 100 milioni di euro, quest'anno ce ne mettiamo oltre 100, più questi 20 su base anno. Quindi stiamo parlando ormai di cifre che prima arrivavano sul territorio del genere 3-4 milioni di euro, adesso arrivano 3-4 volte tante quella cifra. Sono cifre per ogni comune molto significative, dove chi vuole fare la sana politica, la buona politica la può fare. Chi non la vuole fare esce subito, si capisce subito che non è all'altezza.